Ciao a tutti ragazzi, sono MrAlbum47 e questo è il secondo episodio della mia serie in single player di Minecraft Nella serie precedente, se non l'avete vista, ho costruito questa baraccopoli e ho esplorato un po' intorno qua abbiamo la giungla, la neve e altri biomi tanto che prima di registrare questa puntata qua ho trovato del ferro e mi sono fatto un piccone di ferro e gli accesori dell'amicizia e ho fatto anche una torre abbastanza alta per ritrovare la mia casa adesso volevo trovare una caverna, una bella caverna naturalmente stupida la abbiamo i cani di bambù qua ho i cani ma non ho l'osso per poterli prendere perchè sono stupido ah come salta quel maiale la ti do una pacca mia adesso ti può venire fuori gli occhi dalle ricce le ricce sono le orecchie in dialetto veneto eh cosa posso dirvi che eh non uso trucchi perchè guarda non ho too many items o altre cose o difficoltà difficili naturalmente e ho trovato una caverna mentre parlavo ho trovato una gustosa caverna una proprio bella gustosa ci chiamo lo zombie, la c'è del ferro la c'è del bel ferro ok guacca di quanta roba che c'è qua bella mi piace sta caverna qua I love it I love it questo abbiamo detto che è il secondo episodio in single player questa serie se avete notato il primo episodio c'è scritto episodio 001 cosa vuol dire che arriverò anche al centesimo si ragazzi arriverò anche al centesimo perchè se ne faccio uno al giorno tra cento giorni arriverò il centesimo gelato ok ci prendiamo tutto quello che serve comunque prima uscendo da casa vi metterò il video dopo è esploso il creeper che voleva gli ho chiesto vuoi essere mio amico lui mi ha fatto no perchè sei sfigato pam ed è esploso addosso a me e io ci sono rimasto male e ho detto ma sei proprio stupido mi hai fatto una spaventa ecco con questo possiamo prendere gli ossi per addomesticare i cani e vai e vai e vai e vai e vai fatto così ho il telefono scarico ho un bel nokia quelli che non si distruggono mai come si chiamano l'n qualcosa insomma no quello in bianco e verde quello a colori marcio insomma dai un bel telefono lo butti anche dal tetto di casa e non si fa niente e oh vicepreside ah ve l'ho già spiegato perchè dico ogni tanto oh vicepreside vicepreside oggi ho fatto anche il compito di matematica di recupero per il primo quadrimestre speriamo si andrà bene se no i me sega stanno stanno i me sega orco ok io capio vecchi vecchio vecchio avete capito guarda qua stupido zombie mori 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 buona buona andiamo 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 qua vacca dia è grossa che non si sa sta caverna qua guarda madonna ma giu MAGIUNNA ora guarda ferro ferro zombie che di tutto qua c'è di tutto qua osti c'è di tutto eh ho trovato proprio una bella caverna c'ho vecchi guarda che caverna bocca di guarda è continua oh fermate ferro carbonsol carbonsol maggiordomo stronzo maggiordomo stronzo po eeeh ho un problema con youtube penso che non mi fa caricare video oltre i 15 minuti solo che all'inizio mi ricordo avevo fatto un test proprio appena avevo il canale ed ho cancellato il video che ho caricato un video di 20 minuti ehm però eh scusa eh però però me l'ha tenuto quando invece ieri ho provato a caricare il video di 19 minuti di di del primo episodio non me l'ha fatto caricare non so perchè mi ha detto il tempo è troppo lungo il tempo è denaro prezioso se tu sei stupido insomma tutte queste storie qua non mi ha fatto caricare il video più lungo cioè orco allora non mi ha fatto caricare il video perchè era più lungo di 15 minuti e questo perchè non lo so all'inizio me l'ha fatto caricare e adesso non me le fa più caricare allora mi chedao a youtube capito youtube perchè non mi fai caricare il video della durata più grossa eh ti sei stupido eh 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 è sempre stupido youtube oh vicepreside vai va ragazzi appena mi faccio un po' di materiali vado a costruire la statua della vicepreside si e della daniera oh vicepreside papà quanto carbone ho? quanto carbone ho? quanto carbone ho? 36 ah se magari non vi fidate di dire no no tu tu usi i trucchi perchè hai preso le cose non ti abbiamo visto ho tutte le registrazioni perchè quando gioco a minecraft ho tutte le registrazioni quindi se dite eh eh devi farmi vedere le tue registrazioni io farò un video stra veloce con tutte non mi schiamo ho tutte le registrazioni di fraps di fraps e che adesso appena è cominciato l'episodio e ho sempre registrato parte dieci minuti mi sembra perchè sono andato un po' in giro a vedere cosa c'era non c'era niente fatalità e più avanti se rompete le scatole rompete le scatole non è vero che non usi i trucchi io vi posterò tutti i video cioè non ho too many items non ho fighe varie avete capito? avete capito? ahia stupido parmo parmo dai imekuffa imekuffa cazzo mi uccido cazzo 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 guarda cazzo ma fa male ah difficile fa male sti stronti ehi 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 ma che figo ehi chi c'è qua? ehi chi c'è qua? mamma mamma bastate proviamo a ris... ehi là ci sono già stato perchè c'è la luce oh yes so right let's bit together I feel all right I'm gonna wear a woman 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 madonna buah il cagno il cagno il cagno l'amicizia ehi ehi attenzione ah uuuuuh vai cos'è cos'è cazzo c'è cazzo c'è cazzo rompi i coglioni spacchiamo qua però ho trovato tanto ferro ehi questo tatatata può darsi che vi siete accorti nell'episodio precedente che ho un leggero magari un leggero ritardo con la voce questo perchè registro ehi un dungeon allora aspetta vi spiego prima l'altra roba sentirete in leggero ritardo la voce perchè perchè non registro con cioè ho due registrazioni ho quella del video e il sonoro di minecraft l'altra siccome ho il microfono marcio uso un microfono e registro con un altro apparecchio per registrare la musica diciamo il Tascam e quando vado a fare la miscelazione dei due può avere dei problemi a volte tipo o in anticipo o più in ritardo qua sono molto contento perchè ho già trovato un cazzo di dungeon cioè o culo per essere la prima volta madonna e giuro che non guardate vi faccio vedere la registrazione non 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 ho mai visto vacca puttana il dungeon ci farà una bella farm di di zombie si si carne di zombie a manetta anche l'esperienza cazzo madonna giusto giusto perchè ha messo l'esperienza così aspetta che metto le torce così così e così con la con l'esperienza giusto c'è more in aspetta no 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 ma muo per se io li uccido no devo ucciderli io per prendere l'esperienza o no o si non mi ricordo più vabbè prendiamo la mossi cobblestone molto molto gustosa direi una gustosa pietra dell'ottocento inglese che bella che bella ma che culo ha subito subito il il dancio madonna madonna adesso vi direte hai guardato sei andato prima e non hai registrato con fraps e allora capire son ah orco ah se la pensi così pensatela così io non mi offendo se mi dite queste dicerie malvagie no no giuro comunque non 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 saprei neanche come metterli too many items lì quelle robacce lì too 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 many tools too many given too many items ecco e altre mod c'è saprei potrei saperlo ma non vado non me ne frega niente di saperlo non trovo l'utilità c'è non coi trucchi la bellezza di questo gioco va a svanire va a puttane ecco in parole povera la va a puttane la va a puttane vicepreside vicepreside lei è vero che non usa i trucchi no? perché sennò il preside la boccia lei gli fa andare indietro cogli anni no vicepreside stupido no coparme no coparme no coparme no coparme no coparme mamma mamma uh comunque penso che se la me sente me mamma la me dice che son matto perchè ah go il microfono alto a sé go i vicini di lei mi dice ma sto quale semo che parla tutto da solo non so niente a parlare da solo vi ho capio mamma mamma magari la ven su adesso ma mamma la me da un par de 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 viola in testa mi dice che cazzo ho fatto inveso di studiar musso no ma che bello non mi ha del ciccio si che ho qua il ciccio ma è mo il ciccio ragazzi come primo come secondo episodio aver trovato il dungeon culo ma ma bacca puttana che figata che figata ho sentito uno slime madonna ehi la guarda qua chi c'è ciao c'è un bel kenyo qua troppo bello ho preso un bel po' di ferro ma oh ma porca puttana se vado avanti così non è tipo come i primi let's play che non trovi un cazzo è che ormai di let's play di di questo tipo c'è l'orco allora aspetta che ci penso allora è da tanto che che formulo devo formulare di è da tanto no è da tanto che non giocavo in single player no in generale è da tanto che non giocavo su minecraft ma soprattutto in in single player ehm che cazzo dovevo dire che cazzo dovevo dire ma di che vado o no non mi ricordo più sarebbe a dire tanto che non gioco in single player ehm mi piace l'usella no scarso ehm e che cazzo dovevo dire e torniamo su vabbè torniamo su perchè c'è l'uscita qua meglio farci però una strada no vabbè ma dai la trovo di là verso di là si dai so dov'è comunque ci facciamo una bella torre alta anche qua per individuare questo magnifico posto questo magnifico posto vicepreside oh oh guardate che bella torre alta che costruisco per farmi individuare dopo per capire dove andare oh si vicepreside bene 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 ok ehi madonna direi ragazzi che con questo episodio è tutto abbiamo trovato il dungeon nel prossimo ecco vi farò vedere come fare la da una mob no mi servono i pistoni quel cazzo che vi faccio vedere il mio cazzo ecco no scarso scusate per la mia vulgarità perchè io sono in fondo sono sono un amico un amico di tutti ragazzi vabbè come dicevo ci vediamo nel prossimo episodio con nuove cagate no dai faccio la mob fan nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao a tutti